bella raga ciao a tutti dal comendone veneziano allora ragazzi come sapete il gioco delle olimpiadi di soci non è stato fatto infatti sono rimasto veramente di merda l'ho deciso in tre video di fare diciamo le olimpiadi di vancouver però con l'idea che insomma i soci chiaramente questo gioco non è il massimo ci sono solo 4 avversari è fatto un po' la cazzo però dai almeno tre video sulle olimpiadi li volevo fare e si comincia con freestyle, salti femminili ragazzi avverto che non gioco ora tipo 52 anni a questo gioco spero di ricordarmi qualcosa vai cominciamo con un back double full mole vai 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 come e inizia le olimpiadi di soci anche se siamo a vancouver oh madonna ok ok buono buono ok insomma come è andato quarta posizione molto bene vediamo contro chi siamo contro svizzera, francia e austria ok siamo qua bene cominciamo cominciamo bene la nostra olimpiade vai non farne uno difficile adesso buono mira perfetta vai come vai 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 merda questo è il doppio sì ciao fioi me li sono persi male 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 prima disciplina va molto molto male bene ottimo inizio comandiano ottimo inizio comandiano quarto posto l'austria prende il primo oro ecco i parziali continua vediamo la seconda disciplina ne facciamo se sono 14 faccio 5 sul primo video 5 sul secondo e 4 su terzo seconda disciplina oh discesa libera vai 3 2 1 vai partenza perfetta comandiana vai 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 ok e adesso andiamo a prendere la medaglia vai comandone lo scelpino è la specialità comandiana di solito siamo secondi però dai 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 sempre secondi per il momento oh siamo in vantaggio nel settore molto bene dobbiamo tenere duro adesso buono buono world class sempre world class uh mamma mia vai come vai come mamma mia gara perfetta stiamo perdendo però stiamo un po' perdendo cazzo concentration concentration adesso riguadagniamo qualcosa vaffanculo tosse di merda 1.7 molto bene vai 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 1.74 occhio qua abbiamo un po' frenato speriamo bene infatti abbiamo perso tantissimo qua abbiamo perso tantissimo ma porca di quella porca ai 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 siamo secondi non ci credo siamo secondi non ci credo un gioco bastardissimo seconda posizione incredibile incredibile l'Austria va a vincere ecco i parziali l'Austria ha già due ori ragazzi siamo la terza disciplina ma porca Eva come ho fatto a non vincere non lo so beffone come indiano oh lo skeleton vai di skeleton vai come ciù vai 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 Ok. Concentration. Concentration. Buono, come buono. Occhio. No! Mamma mia. Stiamo dominando, stiamo dominando. Dai, cazzo, dai. Aia, qua sbavatura. Dopo, sbavatura! Mamma mia. Quanto abbiamo rischiato? Eh, qua troppo a poco angolo, cazzo. Ho perso velocità sicuro. Prima parte perfetta, seconda non meravigliosa, ma siamo comunque primi. Bravi, ragazzi. Vai. Seconda, mash. Vai, 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 vai che rischio che rischio è un bel vantaggio però mamma mia vai giù vai giù qua cominciamo a perdere come al solito occio vai vai no no adesso no adesso bravo come dai che oro gold medal e vaffanculo e arriva il primo oro italiano ragazzi primo oro italiano e siamo ancora secondi ma adesso l'Austria deve cominciare a tremare quarta tappa quarto evento vediamo cosa cosa è previsto nel calendario oh bob eh bob mi ricordo che era abbastanza una pip vai 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 ok eh no il bob è difficile lì, sì, ciao non fare il ro... ma porca miseria brutto inizio ragazzi, brutto brutto inizio brutto inizio purtroppo siamo secondi per il momento ma fatica quanti errori, quanti errori quarto posto adesso bella, finalmente una bella... no! dai che ci siamo no, mi sono frenato alla fine no! non ci credo non ci credo cosa sono andato a sbagliare porca miseria ormai è finita devo rischiare il tutto per tutto ma è impossibile fare una medaglia ma porca puttana non devo rischiare tutto niente, non ci siamo non ci siamo no, no, è finita è finita ancora ma vaffanculo va niente, purtroppo prestazione disastrosa nel bob maschile va a vincere la Svizzera Austria due ori due argenti zero bronzi Italia un oro un argento Svizzera un oro e un bronzo Francia un argento e tre bronzi ultima ultima disciplina di questo video ragazzi tre video devo fare so che non è il massimo ma è per fare comunque un'olimpiade comandiana anche se non c'è il gioco soci vai questo è bello three two one ah partenza non perfettissima dai non può laggare cazzo maledetto gioco di merda dai occhio dai come portiamo a casa un altro oro il secondo è importante fare i salti perfetti buono cazzo stiamo attenti stiamo attenti adesso buon salto un bravo male come bravo come dai ok buono vai che oro vai che oro gold medal grande cume e arriva il secondo oro i parziali dopo la prima giornata di olimpiadi austria due ori italia due ori svizzera un oro francia zero ori questo è il medagliere ragazzi nel prossimo video prossime cinque discipline e poi le ultime quattro raga un saluto il comendone veneziano con l'inno italiano ciao comenda veneziano comenda veneziano comenda veneziano con l'inno lo youtubers italiano comenda veneziano lo youtubers italiano